sembra che i corrotti abbiano trovato la mente prima di noi beh, sappiate che è stato bello ma ora ho una legione di cacciatori a cui badare buon lavoro dico all'avanguardia che gli scogliano chiudi questa storia se Epix non potrà più scappare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sai cosa devi fare. Abbiamo attirato la sua attenzione. Grazie a tutti. Sai cosa potrebbero fare a noi? Credo che lo scoprirete presto. Sta allerta. Che caos. Il sommo prelato non voleva formare un'armata dell'alveare, ma voleva solo... Attenzione, hanno portato un carro in uno scontro armato. La lama oscura... la percepisco. Quello stiletto è stato modificato per penetrare il sistema. Abbati.